non si è mai completamente vestiti senza profumo. Il profumo è mistero, magia, videotag ideato, pensato da Odoriamola con Mirko. Il suo link è qui nell'info box. Andate a vedere anche il suo The King dei profumi. Intanto guardate il mio. Sigla! Io non ho un profumo. Ho il profumo. Ed è questo. E' ovvio di Yves Saint Laurent. E' un profumo che uso da tantissimi tanti 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 anni. Infatti questo è nuovo e questo è già usato. Usato? E' già... L'ho consumato un pochino. E' quasi pieno anche questo. E' un profumo che è piuttosto particolare. Basta uno spruzzo e sei tembriato per tutta la giornata. E' un profumo che uso in ogni occasione. Sia per andare a fare la spesa, sia per andare a ballare, sia per andare a cena. E' quando voglio un profumo particolare uso questo. E' un profumo che acchiappa. E' un profumo che piace molto agli uomini. Ho notato questo. Si si. Poi se voglio qualcosa di più leggero, posso usare, anzi la ho viso molto spesso, sempre la crema per il corpo. Oppium. Anche questa, dopo la doccia, dopo il bagno che faccio alla sera, ancora al mattino ho il profumo di questa crema. Che è una crema, non so se l'avete già usata, voi donnine, ma è una crema che lascia la pelle morbida e profumatissima. Ma, 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 se voglio qualcosa ancora un pochino di più leggero, dopo la doccia, ho la, ho la, ho la, ho la, ho il borotalco, ho il borotalco sempre della opium. Quindi ho la linea, ho il profumo, la crema per il corpo e il borotalco. Io senza opium non posso mai, mai uscire. Quindi, scoperto il mio king dei profumi. Vi ringrazio per essere arrivati fino qua, di avermi seguita, mi raccomando, seguitemi sempre, lasciate un like e iscrivetevi al mio canale. E soprattutto andate anche a vedere, odoriamola con Mirko, link qua sotto. Ciao e al prossimo video. Ciao!